Presidente, era per dire che avevamo già illustrato la mozione, riguarda anche questa sulla scia della 64, l'aduzione quindi di una promozione, l'impegno per la sindaca di promuovere una magna carta sulla democrazia diretta e partecipata per le città del mondo, mediante il coinvolgimento di tutte le istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali, anche in occasione del Global Forum che si terrà a settembre 2018. Grazie Presidente.